Ancora bentrovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sull'A1, coda in uscita a Firenze Sud, provenendo da Bologna, per traffico intenso. Code per traffico anche in A11, verso Firenze, tra Pistoia e il BV11A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Arriviamo in Fipili, restano code a tratti per traffico tra Ginestra e Firenze Scandicci, verso il capoluogo. Segnala ben oltre la presenza di personale su strada, per lavori, tra Ginestra e la Strassigna, verso Firenze, tra Gello e Lavoria, in direzione di Livorno. Uno sguardo alle statali sulla statale 12 della Betone e del Brennero, cantiere aperti, tra Piano Sinatico e Dogana Nuova, nei due sensi di marcia. Ci spostiamo sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori fino al 6 dicembre tra Monteriggioni e Badesse. Ricordiamo inoltre l'obbligo di catene a bordo, dotazioni invernali su gran parte delle strade della Toscana. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!